ciao a tutti come state bene bene allora e per la canzonale 9 anche quest'oggi nessuna canzone purtroppo ricanterò penso la settimana prossima comunque questo video era per ringraziare tutti voi perché oggi è il mio compleanno e quindi il sottoscritto così giovane come mi vedete che sono giovane fa 44 anni forse non lo dovevo dire ma faccio 44 anni comunque volevo ringraziare veramente tutti vi abbraccio uno a uno vorrei abbracciarvi ma non posso potrei stare qui tutto il giorno a dire i nomi di quelle persone di tutti voi che mi avete scritto per sms per whatsapp per facebook veramente grazie grazie tante oggi è un giorno particolare comunque l'ho passato molto bene grazie a tutti i vostri messaggi vi abbraccio tutti e a questo punto e do un forte abbraccio a mia cugina manuela mia cugina federica claudio e a mia zia gina loro sanno il perché io li abbraccio e abbraccio tutti voi va bene scusate questo messaggio la canzonale 9 riprenderà più in là quindi spero un po' che vi manchi queste serate per queste sere insomma che non canterò continuate a scrivermi quello che volete sentire che io poi ve li canterò ok questo questo è certo ho una lista di di canzoni da fare ce l'ho in lista non vi preoccupate che ve le faccio va bene mi sono dilungato troppo volevo ringraziarvi tutti grazie grazie veramente mi avete risollevato quest'oggi vi voglio bene ancora un abbraccio forte a tutti e tanti auguri anche a cautar che oggi è il suo compleanno non è proprio un giorno dei migliori questo ciao a tutti un bacio grazie la canzone alle 9 riprenderà ciao seguitemi